Questo titolo Homebrew è il classico gioco in cui bisogna premere i giusti tasti a tempo di musica, ve l'ho inserito perché ha una musica davvero ben realizzata considerando le potenzialità del Sega Master System. Ci sono 4 livelli di difficoltà e io ho giocato la più facile, in descrizione trovate il link per scaricarlo, attenzione però che potrebbe non funzionare con tutti gli emulatori, più che altro perché ai livelli più difficili viene richiesto di premere contemporaneamente delle direzioni opposte, quindi ipotizzo che su console reale non funzioni. A me ha funzionato con Mecha e con Fusion, buona visione o buon ascolto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!